Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Phil Rugby Oggi non è un video come al solito dove parlo di un argomento Ma visto che nel video dove facevo elencavo il test match dell'Italia Avevo detto che mi sarebbe piaciuto andare a vedere tutte e quante le parità dell'Italia E uno di voi nei commenti mi ha detto Ma perché non fai un blog sulla tua giornata quando andrai a vedere le parità dell'Italia Ho detto bellissima idea, bellissima idea L'ho accettata infatti oggi farò un video, un diario di viaggio Perché oggi ci saranno i tagli emergenti Olanda che si giocherà allo stadio Rovigo Quindi parto ora da Milano, sono le 14.23 Orario previsto di Rovigo intorno alle 17.30 Più o meno 18 E quindi vi racconterò questo mio viaggio Fino a quando tornerò a casa dopo la partita Andiamo! Ragazzi sono appena uscito dall'autostrada A Verona Sud E ora ho preso la tangenziale Per Rovigo mancano 90 km Quindi 58 minuti Ragazzi eccoci qua usciti dalla statale Arrivati ora a Rovigo City Adesso andremo diretti allo stadio Diretti subito Ciao ragazzi siamo appena arrivati allo stadio del Rovigo Del Rovigo Delta in via della Costituzione 6 Ed eccolo qua dietro Sono le 17.50 Non so se si vede Comunque mancano ancora due ore al fischio d'inizio Quindi Penso che adesso andrò in un giro a vedere la città Vediamo se c'è il negozio ufficiale del Rovigo così mi compro magliette Eccolo qua Staglio Ragazzi sono appena usato al negozio ufficiale della K Perché Ho visto che vendeva le robe La maglietta del Rovigo C'era la maglietta da gioco Però non c'era la mia taglia Quindi non l'ho presa Ho preso questa La maglia comunque del Rovigo Non so se si vede Eccola qua Bellissima Rugby Rovigo Eccola qua Bell'acquisto sono soddisfatto ragazzi Nei prossimi video metterò questa maglietta Grazie a tutti Ragazzi ho finito questo mini tour del centro di Rovigo E adesso vado allo stadio però Perché manca meno di un'ora All'inizio della partita Quindi Stadio Mario Battaglini Direzione stadio Mario Battaglini E ci vediamo dopo A dopo ragazzi Ragazzi siamo dentro lo stadio del Rovigo Delta Di qua ci sono gli azzurrini Che si stanno scaldando Non so se si vede perché c'è un sole C'è un sole assurdo E di là c'è l'Olanda Che si sta scaldando Dai 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 Forza Italia sempre Ragazzi purtroppo Non posso più inquadrare il campo Perché per questioni di copyright Se lo faccio YouTube mi ammonisce E forse magari mi chiude anche il canale Quindi non mi sta tanto bene sta cosa Quindi mi limiterò a inquadrare me Inquadrare un po' gli spalti Però comunque vi farò sentire Sempre nel vivo di questa partita Dai 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 Forza Italia Ragazzi mancano 10 minuti della partita Lo stadio piano piano si sta riempendo Eccolo qua Non è pienissimo però si sta riempendo Adesso lo speaker sta dicendo le formazioni Ha detto quella dell'Olanda Adesso penso che dirà quello Dell'Italia emergente Ci siamo ci siamo Siamo carichi Siamo carichi Carretto Carretto Isekor Terza meta 26 a 0 per ora Ragazzi fine primo tempo 26 a 0 per gli azzurri Assegno Izz, Corr, Jaycee, Ruggeri e l'altro non mi ricordo, comunque 26-0 perché Albanese ha sbagliato solo una trasformazione Adesso io faccio vedere il tabellino se si vede Eccolo il tabellino ragazzi, 26-0, mancano 10 minuti all'inizio del secondo tempo, forza duri Ragazzi, il secondo tempo si è aperto subito con una metà di Jaycee, doppietta per lui, per il giocatore del sempre, doppietta di Jaycee ragazzi 31-0, adesso vediamo se Albanese riesce a trasformare, vediamo, se no si riesce a trasformare si andrà sul 33-0 Ragazzi, siamo più o meno a metà secondo tempo, noi abbiamo fatto una meta ma anche l'Olanda si è andata una meta però non ha trasformato Quindi il risultato parziale al 22esimo è 38-5, non so se si vede perché è un po' sfocato però il risultato parziale è 38-5 per l'Italia Ragazzi, partita finita, è finita 55 per l'Italia Abbiamo segnato 8 metri contro una dell'Olanda, una grande prestazione da parte degli azzurri per far vedere Hanno fatto vedere le loro potenzialità veramente L'Olanda è arrivata solo nei 22 avversari, solo quando ha fatto la meta, quindi grande prestazione degli azzurri Però purtroppo questa è la loro unica partita nella finestra estiva Però comunque adesso c'è l'Italia e c'è la nazionale maggiore Adesso parto subito, mi aspetto durante tre ore di viaggio e ci vediamo a casa quando arrivo a casa E faccio l'ultimo atto del video, a dopo ragazzi Ciao ragazzi, sono arrivato a casa adesso Sono a quasi l'una 0057 Ci ho messo più o meno due ore e mezza Due ore e 45 da arrivare Traffico ce n'era poco Sono un po' alla fine verso Milano Ocunque spero che il video vi sia piaciuto Adesso ci sono altre partite Col Portogallo a Lisbona Dove mi piacerebbe andare Sia con la Romania a Bucarest E con la Georgia Anche se è difficile la Georgia cercherò di esserci E comunque ci aggiorniamo nei prossimi video Dove vi dirò quale partita andrò Per oggi è davvero tutto Alla prossima Alla prossima